Un momento di incontro con tutto il movimento Taranto Senza Ilva per fare il punto della situazione, per rendere il movimento ancora più strutturato, organizzato. Abbiamo individuato l'organigramma, abbiamo lanciato la campagna di tesseramento. Ho detto che chi crede in questo progetto deve farsi apostolo di un nuovo modo di vedere Taranto. Basta col centro-destra e col centro-sinistra. Sono dei contenitori vuoti e falsi, visto che parliamo di soggetti che sono transitati spudoratamente politicamente da uno schieramento all'altro. Vogliamo creare e anche questo lo stiamo facendo con il collega e amico consigliere Massimo Battista, un contenitore, una coalizione di movimenti, di associazioni assolutamente trasversali ai partiti. Unire le migliori forze di Taranto, le migliori professionalità, le migliori intelligenze, le migliori capacità, la gente perviene. Questo come aspetto programmatico per quanto riguarda il nostro impegno politico, l'impegno di Taranto senza ilva. Ma in questa giornata, in questo incontro, è emersa la necessità di strutturare in maniera più forte ancora il movimento, già lo è, attraverso i dipartimenti. Quindi coinvolgendo quei soggetti, quei professionisti, quelle persone che vogliono occuparsi di certi ambiti specifici. E poi, l'altra cosa importante, il lancio della campagna di tesseramento 2024 del movimento Taranto senza ilva. Devo dire che c'è stata una grande partecipazione, la gente ha bisogno di risposte, la gente ha bisogno di un coinvolgimento effettivo. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, vogliamo costruire tutti quanti insieme una Taranto diversa. Io sto in consiglio comunale, ma da solo non posso fare tutto. Ho bisogno del supporto e c'è tanta gente ed è stato bellissimo questa mattina vedere giovani e meno giovani. C'erano persone che avevano 20 anni e c'erano persone che ne avevano 70 e di più. Questa è la Taranto che vogliamo. Ma l'appello, e concludo, a mettere insieme i movimenti, le associazioni trasversali e libere. Solo così possiamo spazzare via questo modo di fare politica che è diventato soltanto un poltronificio. Grazie.